E non ce la vogliamo assolutamente questa centrale perché sappiamo che le polveri che produrrà saranno dannose non soltanto alla respirazione e quindi ai polmoni di noi tutti abitanti della zona ma soprattutto per i nostri figli perché ci hanno spiegato i medici che le nanopolveri vanno a finire nel DNA e quindi i figli che verranno avranno sicuramente delle anomalie e dei problemi. Ve lo immaginate al posto di questo campo di girasoli un impianto a biomasse da 5 megawatt in zona liuvionale con cammino da 8 metri che 365 giorni l'anno emette micropolveri e altri inquinanti a poche centinaia di metri da case, negozi e aziende agricole? No, gli aggueriti comitati cittadini delle frazioni ad est dell'Aquila non lo vogliono nemmeno immaginare. Ieri pomeriggio hanno dato vita ad un sit-in proprio nel sito dove la società Futuris vorrebbe realizzare l'impianto. Fisicamente questo è un canale di irrigazione, lì c'è il fiume Aterno con l'argini a 2 metri dal piano campagna, quindi il fiume già corre oggi al di sopra di questo terreno, è il più basso terreno della piana di Monti. In rappresentanza della classe politica il consigliere regionale del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci e il capogruppo di Forza Italia al Comune dell'Aquila Guido Liris. Non sarà facile impedire l'inizio lavori, ammettono i due. Una sentenza del Consiglio di Stato ha annullato il ricorso al tar vinto dei comitati e ha riaperto i giochi a favore della Futuris. I comitati dovranno sborsare anche 10.000 euro di spese legali. Ma la battaglia vera sarà a ottobre, regione comune dell'Aquila hanno revocato in autotutela l'autorizzazione precedentemente accordata all'impianto e la Futuris ha fatto ricorso al tar e questa volta avrà peso ai fini della sentenza non solo il rischio alluvioni, ma anche la mancanza nel progetto dell'impianto di teleriscaldamento. I comitati ribadiscono poi che l'impianto è antieconomico e il guadagno arriverà solo dagli incentivi statali, ovvero dalle tasse dei cittadini, e non potrà avere a disposizione quantità sufficiente di biomassa da bruciare. Ed il rischio è che alla fine comincerà a utilizzare CSS, la parte secca dei rifiuti solidi urbani, trasformandoci cioè in un ancora più pericoloso inceneritore. Il pateracchio è quello, di fatto questa è una centrale che è fatta perché viene incentivata, altrimenti è perdente. Se voi pensate che si brucia 100 per creare il 18-20% di energia elettrica, l'altro è tutto buttato in aria, non serve proprio, è diseconomica di per sé. Sono gli incentivi, questo falso blef programmatico che ha fatto l'Europa, che però non sa che in Italia la napoletana noi li utilizziamo sempre al peggio.